Se lo vediamo, se ce lo vediamo, tutto questo, dovete, 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 secondo te ci vogliono più di un'ora e mezza, Maria Franco ha le venti, e chiuditi gli occhi, guarda in alto invece, guarda in alto. Scusate un video, le foto con il buio vengono male. Si guardavano le ombre, ma stando dietro lo schermo, si vedevano proprio le magliorette invece, queste qua che vedete al centro della vetrina invece, sono ombre cinesi. La luce, la spiegazione della luce. Chi sono queste? Chi si spiega? Chi? Cosa chi? C'è una delle ombre. E' persone che passano dietro, perché ne so? Ha fatto la foto? Grazie, vediamo, voglio vederlo io, vai tu, vai tu. Specchio con verso, più piccolina, vedi? Come va? La merda, c'è un po' 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 c'è un po'. Perché c'è da essere tu che mi devi rovinare la mia foto? Guarda qua, lì già, lì già. Mettete qua. Che succede? E' un po' c'è 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 un po' Ora vi faccio un reposino, se vuoi puoi farvi un grandino. Ah, sono erano star del cinema muto, vecchi animali, sicuramente sfruttati e maltrattati. Grazie. Oh, che ambiente cordiale. No, 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 no. Siamo ad accesso. No, è tipo spesso, non so cosa. Vabbè, il blue screen, il green screen. La storia è una bella definizione. No, no, il video non viene. Questo è tipo un po' di stellare. Ma chissà se lo sta facendo il video. Cambia scenario. Guarda, mettiti bene. Sembra che stai pilotando per davvero, tutto serio. E cambia. Mettiti bene. Sì, mi stanno inseguendo. Ma non è quella stessa. Ma c'è tutta una cosa sugli animali. Due piani di sfruttamento in pratica. Ma non ho mai . La mia Africa. Sì, non ho mai. C'è quello che filmo Uccelli? Uccelli è quello dei topi, hai visto Willard dei topi? Ma cos'è Willard dei topi? Ma che cazzo è? Cuyo è di Steven King Eh? Cuyo è... Ah Revenant, vabbè Vabbè, famosa Frogs Le vane assassine Sì, ma quelle formiche giganti Il gatto nero L'ombra del gatto Ma che cazzo è? Ah già, sullo squalo va bene Eh? Lo squalo ci stai, piragna pure Ma prima cos'è il gatto nero? Sì No, quella non l'ho mai vista No, quella non l'ho mai vista Deve innamorare quindi LEMPA Sì 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 Sì